attenzione a gara tra i ragazzi di drink team in 5 a prendere palla il buon maestro il portiere li chiameremo drink team questa giornata sono i drink team 2 a 1 il punteggio i ragazzi dell'atletico napoli sono sotto nonostante l'uomo in più caizzi tra i pali ha sostituito praticamente il portiere non c'era più lungo rilancia cercare lungo palla fuori vitale il prestito tale il prestito quest'oggi dei drink team con un uomo in meno proprio per l'uomo in più che hanno portato il primo esterno a battere di vincenzo si è mangiato due tre gol facili facili la laterale sprecata per caizzi sarubi lascia scorrere ciccio chianese lascia scorrere per l'ottimo peto brin autore di due o tre parate davvero importanti arriva a luca tenore a sostegno per il convento tecnico insieme a cacace è molto complicata qua meno per i rossi che tra l'altro vincono attenzione sono del presidente delle squadre presente vincono sempre chianese il tiro cross vai ciccio il nuovo collina qui è dov'è buon alessandro sono savoia collina arbitro che si laurea addirittura il principe come ha scritto su facebook il principe siete tutti invitati offre lui è un mega buffet lungo attenzione questo è un attenzione sarubi solissimo pin chiude tutto vitale ne supera 1 ne supera due e poi vende balla grisani print vitale contro piede temporeggia aggredito 2 poi da 3 ancora vitale che fenomeno vitale se ne va a vitale si accentra può servire con in vitale ancora il tiro mai in vitale si è gasato dalle telecamere dal commento tecnico di tenore sottolineiamo caizzi lungo allora luca come la vedi questa partita è difficile a dirsi all'indietro fa la giocata vicina sbagliato attenzione contropiede 2 contro 1 con enna con enna si lascia raggiungere come un pollo poi ancora di vincenzo con enna solo caizzi che uscita maisto spezza la trama offensiva degli avversari a con fabio il calciotto a chi non ho calciotto calcetto contro i sulle punizioni di corinna boi la mette in mezzo caizzi allontana del vincenzo e vincenzo la dire sul sinistro questo testo ancora di vincenzo scivola sarubi su di lui sempre di vincenzo come pallone per vincenzo credibile incredibile 3 a 1 pianise credibile 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 matteo dedicala dedicala la mia ragazza dal fatto che io e lui siamo gli undici rimasti bene su questa squadra ci voleva questa progettazione interroppiamo su questo commento grazie a tutti